Per gli amici che ci seguono da casa, il pittore degli artisti, il pittore degli artisti perché il presidente Berlusconi, Adriano Celentano, Renzo Arbore, prossimamente il santo padre Papa Francesco, Arieto Lorenzone, la star del pennello, è la star del pennello. E' vero, questo si, io uso i colori proprio per dare emozioni a me stesso e alla gente, quindi io quando faccio un quadro, mi riscoprisco l'anima del personaggio e tu avrai una sorpresa questo si. E io non vedo l'ora da vera, ma dato ho due bellissime sorprese al mio fianco, altro che sorpresa, la tua muse ispiratrice. E' vero, si, l'esprimo sesso, l'esprimo sesso, ma ha fatto senso col pittore, e come l'ha ispirato? Con niente. Con niente. Ma lei, lei, lei non dice le cose. E questo è questa fanciulla al suo fianco? Con gli occhi, con gli occhi. Questa deve ancora ispirare. Questa bella fanciulla? Ma presto ispirerà, presto ispirerà. Presto ispirerà. Molto presto. Eh no, c'è la Samusa che lo copre. Qua c'è la Rita in ballo. Qui? Ascrive l'eh. Dai a piugare tutto! Oh 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 oh.